Ciao a tutti e bentornati su G-EAK FAMILY OFFICIAL! Oggi vi parlerò di una saga che è diventata una delle mie preferite, Shadowhunters The Mortal Instruments. Ma prima di iniziare ad addettrarci in questo oscuro mondo, SIGLA! Avete mai avuto la sensazione di non centrare nulla con il resto del mondo? No? Beati voi, perché la protagonista di questa saga, Clarissa, che tutti chiamano Clary, ha costantemente questa sensazione. Un giorno però di ordinaria follia, come tutti gli altri, incontra i tre ragazzi, Jace, Isabelle e Alec, e quell'incontro le stravolgerà la vita per sempre. I tre le aprono le porte di un mondo totalmente nuovo e folle, eppure per Clary in qualche modo familiare, come se avessi sempre saputo o sospettato. Un mondo dove gli Shadowhunters vivono e si muovono tra alicantropi, fate, vampiri e stregoni. Chi sono gli Shadowhunters? Sono dei cacciatori di demoni, figli dell'angelo Raziel, che creò il primo di loro e diede inizio alla loro stirpe e missione. Gli esseri soprannaturali che convivono in questo mondo assurdo con gli Shadowhunters vengono chiamati nascosti e spesso sono discriminati dallo Shadowhunters per la loro origine demoniaca. I Shadowhunters danno la caccia ai nascosti che infrangono la legge del conclave, il governo degli Shadowhunters, che regola la convivenza dei nascosti nel mondo degli umani e tutela quest'ultimi. Clary, suo malgrado, si trova per puro caso catapultata in questo mondo, dove la distinzione tra bene e male sembra essere molto chiara. Sarà davvero così? Con più di 50 milioni di copie vendute, la saga di Cassandra Clare è edita in Italia dalla Mondadori. Ha conquistato il mondo dei lettori fantasy, sia giovani come me, che è un po' più... come dire... con un po' più di esperienza come mio papà. Il primo volume che vi mostro qui è un'edizione speciale piena di illustrazioni fantastiche e con le scade di tutti i protagonisti presentati come dossier segreti del conclave, a cui il lettore ha accesso, senza che gli inquisitori se ne accorgano. Se non sapete cosa regalare ad una persona a cui piace leggere i libri e il genere fantasy, potrebbe essere un regalo perfetto. Ma anche se volete farvi un regalo da soli. Se vi piacciono i cacciatori di demoni, le creature soprannaturali come licantrumi, vampiri, fate e stregoni e volete vederli destreggiarsi in un contesto più moderno e non il solito fantasy medievaleggiante, correte a leggere questa fantastica saga e magari iniziate proprio da questo primo volume Iper Mega Deluxe. Ciao da Gaia, la vostra Shadowhunters preferita! Vabbè, se tu fossi un vampiro dovrei ucciderti, lo sai, vero? Sì, è vero. Vai, il lavoro di Shadowhunters è un lavoro sporco, ma qualcuno deve pure farlo. Hai visto il mio paletto di frassino a qualche parte? Eh, l'avrò preso il conclave. Si chiama conclave, non conclave. Ma no. E' una roba dei demoni, tutto buono. I demoni esistono.